Luis Vitton Cup la finale nella terza regata un guasto alla barca non gli permette di gareggiare a Luna Rossa i Neos va sul 2-1 però nella quarta regata Luna Rossa si rifà alla grandissima contro un avversario che quest'anno è veramente tosto non è quello dell'ultima Luis Vitton Cup un avversario rapido un avversario veloce ma la quarta regata è stata gestita bene la barca ha risposto bene e si è andati sul 2-2 dopo la seconda giornata di gare oggi ci sarà la terza non c'è una pausa ci sarà la quinta la sesta regata sperando che una delle due speriamo Luna Rossa stacchi sull'altra e si incomincia a vedere una differenza tra le due barche ma una Luna Rossa che sicuramente ha saputo reggere le difficoltà e dimostrare la sua forza vi ringrazio sempre per seguirmi vi invito a cliccare in basso a destra e iscrizione gratuita potrete dire liberamente la vostra sullo sport ciao